Gentili telespettatori, buona giornata. Sondaggio Tecnedire Monitor Italia sulle intenzioni di voto politiche nazionali. Fratelli d'Italia, primo partito scende dello 0,2 al 27,2, il PD cresce dello 0,1 al 20,6, il Movimento 5 Stelle al 15,7, Forza Italia noi moderati al 9,9% cresce dello 0,2, la Lega cresce dello 0,1 all'8%, Stati Uniti d'Europa crescono dello 0,1 al 4,6%, Verdi e Sinistra crescono dello 0,1 al 4,2, Azione cresce dello 0,1 al 4%, Libertà scende dello 0,1 al 2,1, Pace, Terra e Dignità crescono dello 0,2 all'1,7%, altri partiti scendono dello 0,2 al 2%, questa è la differenza rispetto alla settimana precedente. Arrivederci a tutti.